Mi scusi giudice, che vogliamo fare? È da più di mezz'ora che aspettiamo l'avvocato Donati. Signor Bottello, se il suo avvocato non arriva le posso nominare un difensore d'ufficio. Ma signor giudice, io l'ho pagato all'avvocato Donati e pure troppo a quanto pare. L'avvocato sta arrivando, ha avuto solo un piccolo contrattempo. Sì, però non possiamo bloccare l'udienza. Buongiorno giudice, mi scusi il ritardo. Se mi concede un attimo, consulto le carte. Avvocato, lei non mi sembra in grado di affrontare questa audienza. Nell'interesse suo e nell'interesse del suo cliente, le suggerisco di chiedere un rinvio. Le posso dare, vediamo, un'altra audienza tra due mesi. Due mesi? E io mi devo fanarti due mesi di carcere per sto stronzo. Lei stia zitto, altrimenti la faccio accompagnare fuori. Ma io non sto zitto manco per niente. Ma che giustizia è questa? Ma questo è lo scandalo, eh. E te? Ma non ti vergogni? E poi c'è il coraggio di chiedere pure risorgare la gente. Sono io che dovrei vergognarmi di difendere un rubagallino come te. Ma sì, ti ho perso. Fuori, accompagnatelo fuori, portatelo fuori. Tieni Marco, usa questo. Giudice lo scusi, sta passando un periodo particolare.